Anche due aziende aretine tra le società coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Padova per una maxifrode nell'ambito della ricerca. Si tratterebbe di un'azienda produttrice di mangimi per animali e della Claude Italia. Le fatture sarebbero state infatti indirizzate anche a queste due ditte del territorio aretino. I titolari risulterebbero così tra gli indagati assieme ad altre 200 persone in 38 province italiane in qualità di amministratori, rappresentanti legali e consulenti di altrettante società protagonisti della frode o beneficiari dei crediti d'imposta non spettanti. Gli investigatori ipotizzano una maxitruffa da 45 milioni di euro realizzata grazie all'emissione di fatture false da parte di un organismo di ricerca che opera nella provincia di Padova per beneficiare di indebiti crediti d'imposta connessi alla realizzazione di progetti di ricerca. La società padovana aveva committenti in tutta Italia e nei giorni scorsi sono scattate perquisizioni e sequestri tra cui anche quelli nell'aretino.